Lotta agli spuntisti furbetti del sabato mattina. Il Comune di Teramo ristabilisce le regole. Che cosa è successo? Guardi, noi l'avevamo già detto in passato. Ci siamo accorti che purtroppo il sabato, laddove c'erano dei posti liberi, c'erano dei cosiddetti definiti spuntisti che occupavano quel posto senza chiedere prima l'autorizzazione da parte degli uffici. Abbiamo avuto anche qualche settimana fa un episodio in cui abbiamo rimandato a casa uno di questi spuntisti e quindi abbiamo da oggi, avevamo detto che avremmo ridisegnato le regole e quindi chiunque esso sia, se vuole occupare un posto libero deve passare prima in ufficio. Quindi ripristiniamo una regola fondamentale che non so perché per anni era stata un attimino bypassata. Perché l'occupazione del solo pubblico richiede comunque il pagamento di un forfè? Assolutamente sì, richiede il pagamento prima di iniziare la propria attività, ma il problema fondamentale è che bisogna passare in ufficio. Perché il posto libero non è che chiunque arriva lo può occupare, ma c'è una gradatoria e ci sono delle regole da rispettare. Laddove chi vuole occupare quel posto libero ha questi requisiti lo può occupare. Invece purtroppo fino ad oggi chi arrivava prima prendeva il posto.